Buongiorno a tutti, oggi è martedì 7 marzo, sono le 9.52 e tra poco ci metteremo a fare trading. Innanzitutto vorrei ricordarvi che il punto J ha svolto il suo compito egregiamente, quindi posso tranquillamente toglierlo da qui. Ovvero, nonostante la violazione di uno swing molto importante, nonostante delle belle candele rosse, non è partito nulla di particolare da qui. Non è potuto iniziare nulla di particolare perché i volumi sono venuti contro e siamo tornati sopra al massimo dopo soltanto un T settimanale durato circa 10-11 giorni. Per questo motivo non può essere partito un trimestrale inverso, un semestrale inverso, tantomeno un annuale inverso. Punto J, perfetto, ha funzionato. Per quanto riguarda il DAX, stessa identica cosa, ormai siamo tornati sopra. Anche qui, bell'inizio di violazione, seconda discesa dopo una finta rialzo, non sono arrivati i volumi, è arrivata solo lateralità, sono tornati i volumi a salire, punto J ci ha detto che non partiva un nuovo annuale di inverso. Tutto come da prospettive e con trade portati in gain e con analisi corrette e giuste nel fine settimana. Qui possiamo anche mai toglierlo questo perché sapete che dopo un po' mi danno abbastanza fastidio come cose. Ora cosa facciamo? Allora, prima di tutto ricordiamoci sempre che bisogna capire quanto ha voglia di salire ancora questo ciclo settimanale. Perché o saremo di fronte a un raccordo tra un nuovo mensile e l'altro, altra possibilità, ma è possibile come cosa? Andiamo a vederlo. Qui può essere arrivato a 46 bar mensili e poi aver fatto un altro raccordo di grado T-1? No, assolutamente no. Per cui no. Siamo comunque su un settimanale che qui non ha chiuso a 6 giorni perché la candela non è rossa e che è già arrivato alla bellezza di 9 barre. Non sono poche. Qui siamo al nono T-3 e nonostante la possibilità di un vincolo a rialzo, un vincolo ribassista sull'inverso, voglio dire, quindi rialzo dei prezzi, con 34 barre ancora in essere e al massimo si può arrivare a 44 per un T-3 inverso, fare attenzione ad andare short, anzi, come di consueto, non andrò short se non ci sarà una violazione ovviamente di un minimo pertinente. Qui, peraltro, il nono T-3 è arrivato a 17 barre più 21, bastano 3 barre di discesa per farlo chiudere. continuano a valutare di andare comunque long e seguire il trend a meno che appunto non ci sia una violazione di uno swing. Per cui questo rimane in essere così com'è da come da centratura. Per quanto riguarda il DAX, anche qui a quanto siamo arrivati di T settimanale. Qui è più difficile. Ok? Perché se andiamo a prendere dunque 1, 2, 3, 4. Ok. Tac e tac e torniamo qua. Qua siamo a 27 però qui non chiudeva. Qui siamo a 22. No, neanche qui ci sta il raccordo di grado T-1 tra 2 e T più 2. Niente da fare. Non c'è. Per cui in questo caso abbiamo soltanto tra virgolette un settimanale che parte con una buona forza che appunto ci era già riportato qui sopra. Quindi siamo andati a target rispetto all'analisi data ok non qua all'analisi data nel weekend aggiorneremo i massimi fatti stessa identica cosa per il DAX saliamo sopra i 15.658 siamo a 682 in questo caso dobbiamo vedere di dove finisce il nostro ottavo T-3 inverso perché potrebbe aver chiuso qua a 26 barre potrebbe anche questo essersi già vincolato di inverso e continuare a salire e il terzo T-3 di contro lato indice potrebbe essersi chiuso qui e potremmo essere tranquillamente sul quarto T-3 che può andare poi a chiudere anche un T-1 sì nel frattempo però si può anche andare a 5 T-3 prima di chiudere un T-1 e quindi anche in questo caso iniziamo a vedere quanto può durare l'ottavo T-3 inverso che per ora è arrivato a 36 barre sul massimo 44 ma teniamoci in mente questo discorso del racco della partenza eventuale del nono T-3 universo già vincolato a salire tutto il resto torna direi che altre cose in particolare non ne abbiamo da raccontare i livelli dell'algoritmo verranno come al solito dati al gruppo premium vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché ho già deciso così e voi ve la meritate? Arrivederci